Ciao a tutti su Spunti di Riflessione e do il bentornato a un caro amico, ciao Gio Fumagalli, bentornato. Ciao Paolo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ricordo che Gio è titolare della casa editrice Ibex Edizioni, con cui abbiamo già affrontato vari argomenti, in particolare la casa editrice è specializzata in tutto il discorso di recuperare una serie di testi, alcuni poco conosciuti, a differenza di quello che abbiamo stasera, che invece è molto conosciuto, poi capirete perché, che si incentrano su una tematica che a me personalmente interessa molto, quella del consenso. È un qualcosa che probabilmente, ancora ma c'è ragione con il mondo dei social, con l'avvento del web e del mondo dei social, è un qualcosa che è tornato di estrema attualità. Noi abbiamo già parlato di questi temi, io vi rimando assolutamente i precedenti video, guardateli perché scoprirete veramente molti temi interessanti e molti libri interessanti, che naturalmente sono disponibili sul catalogo della Ibex Edizioni. Tra l'altro voi avete anche, ricordiamola, che questo è un canale YouTube sul quale ci sono state tutta una serie di passaggi e anche di interviste molto interessanti, quindi vi consiglio anche di cercare qui stesso sulla piattaforma YouTube il canale Ibex Edizioni, troverete sicuramente molti, molti spunti interessanti. Tra l'altro tu si riduce al proposito di YouTube da una chiacchierata che è uscita proprio questa poveriggio sul canale YouTube del vaso di Pandora, giusto, dove avete parlato. Ricordami velocemente di cui andate a guardarvi naturalmente il video sul canale di Carlo. Parlava di come stanno evolvendo i domini della guerra e di come le applicazioni che utilizziamo sul nostro telefono poi in realtà possano rientrare anche all'interno di quel tipo di concezione bellica. Vi rimando qui assolutamente a questo video, tra l'altro Carlo, Carlo Savagnaglia è stato mio ospite qualche tempo fa e in generale il vaso di Pandora, devo dire che ha tutta una serie di contenuti molto molto interessanti, rubrica e fiste anche ospiti, come per esempio in questo caso Gioco Magalli, in cui si trattano sempre di argomenti molto interessanti e molto attuali. Mi piace molto una battuta che fa spesso Carlo, noi facciamo informazione e gli altri fanno un altro mestiere e devo dire che è uno degli slogan che trovo più efficaci e più azzecati. oggi anticipavo, parliamo di un libro che, oddio, diciamo non posso definire esattamente un libro vecchio, un libro nuovo scusate, un libro che ha 500 anni, anzi forse anche qualcuno di più ormai, però è un libro di una attualità sconcertante, perché oggi parleremo niente di meno che di Il Principe di Niccolo Macchiavelli, che la Ibex Edizioni ha ripubblicato circa due anni fa, tra l'altro accompagnandolo con tutta una serie di stunti e con un saggio introduttivo a firma Giovanni Bresci, poi ci direi tu Mari chi è questo signore che aiuta anche la comprensione, perché chiaramente è un libro che è stato scritto nel Fiorentino di 500 e passa anni fa, quindi oddio, si capisce abbastanza bene tutto sommato, perché anche dei ricordi scolastici, in tutto sommato ricordo che non ci voleva un grande impegno nel comprenderne i contenuti, però in ogni caso sicuramente di aiuto, credo che sia anche molto apprezzato tra l'altro dagli studenti che diciamo tra la fine del terzo e l'inizio del quarto anno della scuola superiore del liceo sicuramente con questo signore si trovano ad avere a che fare, c'era l'abbinata, ricordo, Machiavelli, Guicciardini, due grandissimi, ricordiamo solo brevissimamente, non siamo qui a fare lezioni di letteratura, chiaramente di storia, Nicola Machiavelli nasce alla fine del 400, precisamente nel 1469 a Firenze, dove morirà tra l'altro a 58 anni nel 1527, è un personaggio importantissimo perché è considerato praticamente il fondatore di quella che consideriamo la scienza politica moderna. Ha scritto, questo bisogna ricordarlo, tutta una serie di opere, anche poesie, opere teatrali, però indubbiamente la sua opera più famosa che lo ha consegnato in qualche modo alla storia, giustamente aggiungerei io, è Il Principe. Che tra l'altro vorrei ricordare che Machiavelli, oltre che autore, è anche una persona che svolse tutta una serie di voli pubblici nell'allora Firenze rinascimentale, infatti il principe a cui si riferisce lui nel testo è proprio il principe per eccellenza forse di quel periodo, cioè Lorenzo de' Medici. Noi andremo a leggere dopo, prima praticamente ci introdurrà un po' l'opera e ci dirai anche perché vi è venuta in mente l'idea di ripubblicare questo testo, poi andremo a leggere alcune spezzone, alcune frasi, tratte proprio dal principe, che sono di una attualità a dir poco sconcertante, considerando che appunto risale a mezzo millennio fa, anzi più di mezzo millennio fa. Vai Joe! Allora, fin di tutto grazie per questa bellissima introduzione, per questa panoramica su Machiavelli e sul principe. Partiamo magari dall'operazione editoriale che abbiamo fatto noi come Ibex Edizioni e poi da lì pigliamo là e iniziamo a scaldare un po' i motori, diciamo. Con Ibex, come giustamente anticipavi tu, quello che noi stiamo tentando di fare è appunto riproporre al mercato e quindi ai lettori, che forse è un po' più bello chiamarli lettori che chiamarli mercato. proporre ai nostri lettori tutta una serie di testi che in un modo o nell'altro secondo noi sono comunque rilevanti in questo momento storico, non tanto per il momento storico in sé, quanto per il lettore inserito all'interno di questo contesto storico. La lettura è un'attività che secondo me ha la grande capacità di innescare dei movimenti colossali all'interno dell'anima di una persona, per cui l'editore ha anche un po' questo tipo di responsabilità, che cosa porti ai tuoi lettori? Conta. Non si può fare un ragionamento puramente mercantilistico e non si possono portare ai lettori delle cose per il semplice fatto che queste produzioni editoriali si sa che in qualche modo porteranno del profitto. Secondo me l'editore, almeno per come io vivo la mia posizione di editore, ha anche un compito un po' più alto del semplice essere uomo di impresa alla guida di una casa editrice. Per cui quello che stiamo tentando di fare noi è fare una sorta di preselezione, perché oggi se andiamo ad esempio sulla pagina di qualche store online o all'interno di quelle macro librerie che si trovano all'interno delle nostre città, cioè siamo assaliti da qualsiasi tipo di proposta e diventa anche un po' difficile orientarsi in tutto questo. Quello che tentiamo di fare noi con le persone che ci seguono un po' su Telegram, un po' sul nostro sito web, eccetera, la newsletter, è tentare di continuare a proporgli qualcosa che abbia un certo tipo di rilevanza nel modo di interpretare il presente. Non siamo particolarmente interessati a libri facili, perché crediamo che le letture migliori siano quelle che ti lasciano un po' scomodo, che ti fanno fermarti, riflettere e dire ma sono completamente d'accordo con questa cosa, sì o no, oppure che ti fanno fermare e riflettere e ti fanno dire beh probabilmente questa cosa è ora che inizi sul serio a pensarla in questo modo, insomma devono scuotere un po' un po' l'anima le letture e per farlo noi in realtà non facciamo quasi nulla di saggistica ma ci concentriamo, scusami di letteratura, ma ci concentriamo sulla saggistica. Machiavelli è un punto importantissimo nella storia di quella che potremmo definire la saggistica italiana, perché poi come raccontavi tu lui ha fatto anche delle opere teatrali, però buona parte delle sue opere più importanti sono tutti gli effetti dei saggi. Uno di questi è il principe, che è un saggio sul buon governo sostanzialmente, sono i consigli che lui si sentiva di dare a questo principe, che è un po' un insieme di consigli che lui dà a tutti i principi che puntano a essere, o tutte le persone di governo che puntano ad essere delle buone figure di governo. Ci siamo resi conto che c'è tutta una serie di motivi per cui noi eravamo legati a quel testo, un po' perché è uno dei primi test in cui si inizia a discutere di Italia come entità politica e qui i collegamenti col presente si sprecano, noi viviamo in un tempo in cui l'Italia come entità politica ce la stiamo dimenticando sempre di più, mentre invece probabilmente dovremmo ricordarcela anche a beneficio di chi ci sta attorno, perché è una delle cose che mi fa un po' vigilare le scatole, è questa idea per cui un'Italia forte, o comunque un'Italia con coscienza di sé e di quello che è stata, di quello che può essere e che può portare alla comunità internazionale sia necessariamente qualcosa che vada a indebolire un'idea di Europa che non è un'idea di Unione Europea, sono due cose completamente diverse, in realtà no, in realtà un'Italia che riesce a tornare ad avere coscienza di sé spinge poi tutto quanto, non si pone in contrasto, il problema è che noi oggi siamo inseriti all'interno di una comunità economica che lascia un po' poco spazio all'espressione di quelle che sono le comunità, le comunità diciamo locali, le differenze e le individualità. Quindi c'era un po' questa prima dimensione che era molto forte, la seconda è la dimensione proprio del dare il via a quello che è la scienza politica vera e propria. Con Ibex noi diciamo sempre che il nostro motto è un po' quella frase che trovate sulle nostre pagine social eccetera, libri per chi scala il futuro. Quello scalare il futuro vuol dire da un lato strizza un po' l'occhio, visto che noi facciamo anche un po' di testi che puntano a dare degli strumenti concreti a gente che fa cose, detta proprio in maniera un po' brutta, punta a fare sempre di più, fare sempre meglio, fare sempre con più impatto eccetera. Dall'altra parte noi crediamo che chi legga sia un po' più avvantaggiato nei confronti di chi non legge, nel momento in cui una persona che non legge incontra l'uomo che legge, l'uomo che non legge è un uomo morto, per adattare una citazione western. E in questo senso il principe è fondamentale perché se noi puntiamo a creare pensiero consapevole, critico, che non sia solo indirizzato a distruggere magari qualcosa che in questo momento non sta funzionando, ma sia anche interessato a proporre e quindi costruire un'alternativa, beh ci sono delle tematiche, ci sono delle tematiche che vanno assolutamente affrontate. Il principe lo fa bene, lo fa bene, però esistevano già tante versioni del principe, molte anche attualizzate, di solito un'operazione che ad esempio abbiamo fatto con Psicologia delle Folle o Psicologia delle Masse e analisi dell'Io è stata quella di riattualizzare la traduzione a un italiano che abbia senso negli anni 2020 barra 2030. L'abbiamo anche appena fatto con la Gaia Scienza di Nice, tanto per intenderci. Col principe non c'era questa necessità, c'era proprio una necessità di renderlo fruibile, quindi noi abbiamo sostanzialmente fatto due operazioni. Dal punto di vista puramente della carta stampata abbiamo creato un'edizione che sostanzialmente ha il testo originale, perché come dicevi te non è così impossibile da capire ed è anche bello andare a riscoprire che italiano si parlava a Firenze 500 anni fa. Però a fianco di quel testo abbiamo sostanzialmente aggiunto delle spiegazioni un po' più brevi di ogni singolo capitolo, in modo tale che la persona che ha voglia di fruire di quel contenuto, ma per qualsiasi caso che la vita ci pone davanti non abbia necessariamente tutto il tempo, o anche semplicemente la lucidità di mettersi lì e leggere un testo del 500, potesse comunque fruirne il contenuto passando attraverso dei riassunti. Questo non in un'ottica contrappositiva con il testo originale, ma proprio per andare ad ampliare il bacino di lettura. Il tasso di consumo dei libri in Italia si aggira attorno al 5%, vuol dire che fatte 100 persone quelle che acquistano un libro, solo 5 poi in realtà iniziano a leggerlo e portano avanti la lettura. Quindi noi volevamo allargare questa cosa qua. E non ci siamo fermati semplicemente a questa operazione del capitolo più riassunto del capitolo spiegato in italiano corrente, ma tu giustamente prima nominavi il nostro canale YouTube. Abbiamo preso tutto quanto, l'abbiamo reso un audiolibro e le persone lo trovano gratuitamente all'interno del nostro canale YouTube. C'è una playlist dedicata, cercate ibex edizioni, principe, lo trovate, è molto distintivo, è come la nostra copertina, c'è la statua di Machiavelli che si trova a Firenze, in copertina che è gialla, su sfondo blu lo vedete benissimo. Così non dovete neanche preoccuparvi di spendere quei pochi euro che servono per il video. Ma avere anche un libro cartaceo, secondo me, io continuo a dire, nonostante per carità, o l'audiolibro sta andando al grande ultimamente, anche perché spesso si dice, ah io non ho tempo per leggere, quant'altro, invece io per esempio da, non da poco, no, nel periodo della pandemia io mi ero ascoltato un libro a caso, anzi due libri a caso, 1984 e La fattoria degli animali, pensa te che sono disponibili tra l'altro per chi volesse proprio su YouTube in versione audiolibro e sono, pur avendo il libro cartaceo a casa, però magari stavo facendo altre cose e nel frattempo ve li sono audioletti tutti e due. Assolutamente, assolutamente, poi anche un modo, allora, facciamo un patto con i lettori che ascolteranno il libro gratuitamente su YouTube, lo trovate su YouTube, ve lo potete mettere su intanto che state facendo altro, tanto quando normalmente, quando vanno le mani la testa tende ad andare da un'altra parte, quindi potete tranquillamente ascoltarvelo così, se poi vi piace l'operazione che abbiamo fatto, per il semplice gusto di mettervelo in libreria, potete tranquillamente acquistarlo o regalarlo, esattamente, e ve lo trovate lì. Quindi niente, questa è la nostra idea editoriale sul principe, tornare a proporre qualcosa che ha un'estremo attualità, perché come dicevi te non è un libro vecchio, che è un libro che secondo me non esiste un singolo passaggio, perché anche i passaggi che fa sui differenti tipi di eserciti di cui uno Stato può disporre, quello è tremendamente attuale. Adesso per esempio il passaggio sui mercenari, che tra l'altro io l'ho sentito citare diverse volte, adesso in occasione anche della vicenda della guerra in Ucraina, che proprio qualcuno diceva, e Machiavelli lo diceva, che gli eserciti mercenari, più o meno il concetto era come dire, vanno da chi paga meglio, però ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia, che quando qualcuno che li paga meglio ti scaricano la grande, ecco, non so, poi il concetto era questo. Assolutamente, vedi la rilevanza? Ma poi è la rilevanza anche di un'Italia che è stata in grado di avviare delle produzioni culturali che all'epoca ci potevano solo invidiare dall'estero e forse è stato anche un po' dovuto alla nostra storia, che mentre le altre nazioni erano già all'interno dei processi di costruzione delle nazioni che conosciamo oggi, la frammentazione dell'Italia all'essere esposta alle invasioni francesi, svizzere, tedesche, eccetera, comunque creava quel fermento che è tipico di quelle realtà che non si sono ancora sedute e quella cosa lì si poteva vedere nelle arti, ma si vede anche a livello di produzione culturale in senso esteso, per cui anche con questo tipo di opere che magari sono meno artistiche, tra virgolette, e un po' più di ragionamento. Tra l'altro ecco una delle, diciamo una delle maggiori contestazioni che è stata fatta al principe di Machiavelli, che contiene al suo interno, o comunque diciamo, non mi ricordo se lo dice proprio esplicitamente, però diciamo un po' il senso, la morale, quella famosa frase che è rimasta poi diventata un detto, un adagio di comune conoscenza, cioè il fine giustifica i mezzi, perché, sa, detto chiaro e tondo, e poi in realtà a studiarlo meglio, il principe è un'opera che aveva lo scopo, lo stesso Machiavelli forse lo diceva in alcuni suoi scritti, cioè lui raccontava certe nefandezze che probabilmente aveva anche visto, perché come dicevo è una persona che ha avuto anche quelli che noi chiameremmo oggi ruoli pubblici, diciamo che lui era quello che noi chiameremo l'apparato burocratico o diciamo istituzionale di quello che era allora la signoria di Firenze. Lui tutta una serie di cose le ha viste con i suoi occhi e il fatto che ne parlasse, diciamo quasi apparentemente con ammirazione, era in qualche modo un artificio per dimostrare, guardate che cosa c'è dietro il sistema di potere. Ecco, questo è una delle, forse degli insegnamenti più preziosi che c'è in quest'opera, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare che cosa è cambiato in questo senso rispetto a 500 anni fa. Certo uno potrebbe dire all'epoca il sistema era come dire autocratico, c'era appunto la figura del signore più o meno ufficiale che di fatto dettava legge, ma oggi serviamo delle procedure elettorali, però non è che le cose siano cambiate più di tanto. In realtà la Repubblica è comunque una forma di governo che è precedente, precede Machiavelli di un bel po' di secoli, per cui io credo che a livello di modalità in cui l'uomo decide di governarsi non è cambiato molto. E per tornare alla frase che citavi te è uno dei miei libri preferiti sono le memorie di Victor Serge, noi abbiamo pubblicato anche un altro suo libro che è Saper tacere. Probabilmente abbiamo fatto anche forse una discussione. Sì, ne abbiamo parlato, sì sì. Andate a guardarvi quel video che è molto interessante. Perché io e te parliamo spesso di un sacco di cose, faccio pratica, dovete sapere che io e Paolo ci sentiamo per tante cose e non solo. Non solo su YouTube, sì sì. Esattamente, è il bello di questa cosa qua, che io e Paolo rimaniamo in contatto anche al di fuori di YouTube, anzi, probabilmente di più fuori che su YouTube. Però quindi faccio un po' fatica a ricordarmi. Ne abbiamo parlato, perché anzi è un video che risale adesso, oddio, non mi ricordo esattamente, però forse me lo fanno. Ok, va beh. Di Victor Serge noi abbiamo ripubblicato questo libro, dal cui mi è andato il titolo di Saper tacere. Però Victor Serge diceva una cosa interessante, diceva che il Novecento ha reso chiaro a tutti quanti che non solo il fine giustifica i mezzi, che secondo me è anche abbastanza sacrosanta come affermazione, ma che li definisce. Cioè, il dove vuoi arrivare ti dice quali, se lì ci vuoi arrivare realmente, ti dice quali mezzi puoi utilizzare e quali mezzi invece è inutile che tu possa utilizzare, cioè che tu ti metta a utilizzare. E questa cosa qua è una cosa che dobbiamo capire, perché l'assunzione di responsabilità etica e morale è sul fine. Poi a cascata scende anche sui mezzi che puoi utilizzare. È relativamente improbabile che uno per, che ha una buona etica, una buona morale per arrivare a qualcosa che è moralmente ed eticamente sostenibile, poi persegua dei mezzi che sono eticamente insostenibili e moralmente insostenibili. Per cui secondo me conta questo ragionamento qua. E poi noi dobbiamo anche un po' renderci conto che secondo me è uno dei grandi problemi con tante tematiche oggi, come il denaro, il marketing, la comunicazione, eccetera, che i mezzi di per sé sono agnostici. È l'utilizzo che noi ne facciamo che gli dà una connotazione negativa o positiva. Faccio sempre l'esempio del coltello io, no? Il coltello nelle mani di un chirurgo è un bisturi che salva una vita. Nelle mani di un cuoco è uno strumento per produrre qualcosa, si spera di buono, perché sennò state andando dal cuoco sbagliato. Le mani di un aggressore è qualcosa che è potenzialmente letale. Il coltello è sempre lo stesso. A me verrebbe un altro esempio. Mi viene in mente la penna, anche se oggi non è più di modo da scrivere a mano, anzi, ha fatto bene la Svezia che sta cominciando a tornare un po' sui suoi passi, chissà che non lo imitino anche da queste parti. Se la metti in mano di certi cosiddetti professionisti dell'informazione, ne vengono fuori delle puttanate totali. Se invece la metti in mano nelle persone giuste, ma riscrivono anche e fanno un ottimo servizio all'informazione. Quello che dicevamo prima, quella battuta che io rubo sempre, c'è chi fa informazione e chi fa un altro mestiere. Questo è un altro esempio, ma anche se sostituite la penna con il computer, diciamo che non cambia tanto il disco. Sono noto che io sono abbastanza critico. Allora, guarda, io mi sono sottolineato alcuni singoli passaggi che chiaramente non vi possiamo leggere un libro di 180 pagine, che poi non sono neanche tante, per la verità. Alcuni passaggi sono troppo carini e meritano almeno di essere letti. Questa è fantastica, due parole. È meglio essere temuti che amati, se non si può essere entrambi. Ecco, questa frase è fantastica perché, come la leggo io, racchiude un principio fondamentale. Tutti i regimi, compresi quelli più tirannici che sono mai esistiti, e purtroppo il Novecento da questo punto di vista ce ne offre un campionario abbastanza vasto. Comunque hanno sempre fatto leva anche sul consenso. Così, per fare un esempio pratico, io vi ricordo il mio professore dell'Università di Storia della Germania durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, che diceva che il regime nazista, che, voglio dire, credo che abbia avuto pochi pari quanto a elementi di autoritarismo, anzi di totalitarismo in quel caso, si preoccupò quasi fino all'ultimo di tenere le città tedesche fuori da tutte le vicissitudini della guerra in termini di rifornimenti, in termini anche di bombardamenti, anche se dopo un certo momento non si poteva ovviamente più fare questo, proprio perché aveva paura di una caduta del consenso interno. Cioè, se un personaggio come Hitler o come Stalin si preoccupavano del consenso, visti che i metodi che li caratterizzavano, potete immaginare, quindi questa frase che è stata scritta, come dicevamo, più di 500 anni fa ha un'attualità incredibile e ha trovato anche tutta una serie di applicazioni. Il consenso è un sistema, visto che di consenso l'Ibex si occupa tantissimo, ha una parte fondamentale in qualunque processo, diciamo politico in questo caso, quella che è la guida. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo punto. Hai già dato molti spunti interessanti tu, quello che mi sento di aggiungere io è che secondo me quella frase lì è suddivisa in due parti e sono abbastanza importanti entrambe. Nel senso che la prima parte, cioè la parte su cui ti sei focalizzato te, che in realtà è la seconda in questo momento, che è essere sia temuto che amati. Esatto, se non si può essere entrambi. Esattamente, se non puoi essere sia temuto che amato, è meglio essere temuto. Esatto. Stiamoci sul non puoi esserli entrambi. fondamentale è il bastone carota, ma è anche quell'idea di fiducia che ad esempio io ho lavorato per un sacco di anni con una persona che arrivava dall'ambiente dell'esercito e stavamo costruendo delle squadre di lavoro all'interno del mondo no profit. E questa persona mi continuava quando si parlava di fiducia, ma ci sono state diverse occasioni in cui mi ha ripetuto quello che a loro in Marina, lui era statunitense, insegnavano sulla fiducia. Cioè la fiducia c'è nel momento in cui c'è anche il controllo. Cioè la fiducia non deve essere qualcosa di completamente gratuito che viene data all'altro, ma deve essere qualcosa che viene costantemente controllata. e nel momento in cui tu controlli ed effettivamente ti rendi conto che quello che doveva essere fatto è stato fatto, allora puoi fidarti. Però il fatto che tu sai che ti puoi fidare arriva solo ed esclusivamente se tu sei andato a vedere. Se ti fermi al crederci non si può parlare di fiducia, si parla di altro. E questa cosa qua vale anche con il consenso, nel senso che il potere per mantenersi ha bisogno di essere apprezzato, altrimenti non va avanti molto. Dall'altra parte però non basterebbe nemmeno solo quello. Cioè bisogna sapere che esiste il consenso, ma bisogna anche sapere che se si devia dal consenso e si entra in un'ottica un po' più avversiva, poi esiste tutto un insieme di situazioni, meccanismi, chiamiamoli un po' come vogliamo, che ci sono. E qui ci colleghiamo alla seconda parte della frase che citavi te, che è quella invece sul è meglio essere temuti. Cioè il purtroppo amare o essere amati non ha potere deterrente e quindi non aver potere deterrente in una situazione globalizzata come quella in cui viviamo noi, in cui sostanzialmente siamo in uno scenario globale di forti cambiamenti, se tu hai qualcosa da dare e non sei in grado di difenderti, diventi preda. Per cui c'è anche quella parte lì che va, ti vedo che annuisci, quindi devo aver detto qualcosa a te. Altro che ci siamo capiti perfettamente. Guarda, ne ho un'altra che sempre si innesca su… ce ne sono tante, ma purtroppo non abbiamo il tempo di leggerle tutte, magari diventa un video di quattro ore. Questa ugualmente secondo me è efficacissima e allo stesso tempo attualissima. Sono tanto semplici gli uomini e tanto obbediscono alle necessità presenti che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. Questa è fantastica, ragazzi. Questo è proprio… sono due righe e non spettacolo. In pratica, tradotto proprio nel linguaggio attuale, sarebbe come dire che trovi sempre qualcuno che ha voglia di bersi qualche storiella. Diciamo, la sto traducendo in modo proprio… qualunque professore di letteratura mi ucciderebbe, però la sto un po' semplificando solo per… Ma è vero e secondo me non è tanto un discorso… cioè sì, è un discorso di voglia. Perché tu hai usato una frase interessante perché hai detto che ha voglia di bersi qualche qualche storiella, nel senso che non ha voglia di fare lo sforzo che serve per conoscere ciò che è realmente vero e distinguerlo da ciò che invece gli viene propinato per qualsiasi tipo di situazione di comodo. E vabbè, tu l'hai già ripetuto un paio di volte, noi siamo una casa editrice che si occupa e si focalizza tanto sul discorso della costruzione del consenso. Una delle tematiche base è che se io lo sento ripetuto tante volte, qua sto citando una persona che purtroppo non ha fatto cose molto buone nella propria vita, però se io sento una cosa ripetuta a sufficienza, quel determinato fatto, quella determinata affermazione, quella determinata qualsiasi cosa sia, per me diventa un principio di realtà, per il semplice fatto che ci sono tante persone che stanno ripetendo quella frase, quella notizia, quell'idea, eccetera. In realtà la frequenza con cui questa cosa viene ripetuta non ha nulla a che vedere con il suo essere vero o essere falso, cioè sono due piani completamente diversi, però l'essere umano che preso in gruppo, in gruppi statisticamente rilevanti, è un animale tremendamente pigro e quindi si adagia, perché ha tanti problemi, ha tante cose da fare, e quindi si adagia. E tra l'altro questa cosa qua è una roba che viene sfruttata molto all'interno dei meccanismi comunicativi, perché? Perché esiste un principio sostanzialmente che dice che la media matematica, infatti si chiama media matematica, non esiste in natura, facciamo un esempio per capirlo subito, in palestra, bilanciere, no? Quindi o panca piana, quella dove si alzano i pesi stando sdraiati. Io entro alzo 5 kg, entra mio fratello, ne alza 10, entra mio cugino, ne alza 95, entra un altro mio cugino che ne alza 100. Abbiamo detto che sono, cosa sono? 200, 95, 500, 110, 210, ok? La media di 210 con 4 persone che entrano in palestra sarebbe 62,5. 62,5 per i primi due casi, quindi io e mio fratello che alzavamo 5-10 kg sono un'enormità che non riusciremo mai ad alzare, ma per le altre due persone che ne alzano rispettivamente 100 e 95 sono leggerissime. Quindi quel numero lì che è la media delle quattro cose in realtà non svolge nessuna funzione se non quella di rappresentare la media matematica. Ora all'interno di un gruppo sociale le idee e i livelli, anzi parliamo prima di capacità intellettive. Se noi siamo un gruppo di 100 persone, la capacità intellettiva di quel gruppo di 100 persone non è la media matematica di quel gruppo di 100 persone, ma si attesta sul gradino più basso della piramide che compone quel gruppo di 100 persone. Perché? Perché quando siamo inseriti in contesto di gruppo entrano dentro altre dinamiche. Per cui è molto più semplice che chi sta in alto, che normalmente è anche il numero inferiore rispetto a chi ha meno capacità intellettive, tenda ad adagiarsi verso il basso. Per cui una cosa, anziché essere vero, è meglio che sia ripetuta tante volte piuttosto che sia realmente vera. È più semplice far passare qualcosa come vero ripetendolo tante volte, piuttosto che spiegandolo. Per cui questa cosa qua è molto fondamentale secondo me. E ancora una volta salta fuori l'incredibile attualità di Machiavelli nel scrivere questo scritto. Assolutamente sì. Guarda, ne ho un'altra che... Guarda, sono tante quelle che mi piacciono, purtroppo ripeto, non abbiamo il tempo di leggerle tutte, però anche questa è molto carina. Non c'è nulla di più difficile da gestire, di esito incerto e così pericoloso da realizzare dell'inizio di un cambiamento. Evidentemente mi viene da pensare che anche 500 e passa anni fa la paura del nuovo c'era. Perché questa frase è proprio emblematica del, come dire, rimanere attaccati. È vero che c'era anche l'altro vecchio adagio, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova. Però obiettivamente, insomma, i cambiamenti da che mondo è mondo fanno sempre paura. Quindi c'è qualcuno anche che si, tra virgolette, aggrappa a quello che in sardo si definiva un tempo, te lo dico, il sugonnoto, che sarebbe il conosciuto. Quello che è risaputo come una tradizione. Non ha proprio una traduzione, il conosciuto sarebbe più o meno. Evidentemente, ripeto, gli uomini anche allora i cambiamenti facevano paura. Infatti, dice, non c'è nulla di più difficile da gestire, di esito incerto e pericoloso quanto è il cambiamento. Quando le persone propone un cambiamento, scatta, diciamo, quel meccanismo di ritrosi. Oddio, non da parte di tutti, però tendenzialmente c'è la... Ah no, questa è una cosa nuova. Ma perché? Ritorniamo al discorso di prima, perché cambiare ti costa la fatica di andare a esplorare qualcosa che non sai. E quindi è molto più semplice rimanere rinchiuso in qualcosa che hai già conosciuto, rispetto che rischiare e andare incontro a qualcosa all'ignoto, all'atto pratico. È la classica paura dell'uomo nei confronti di ciò che non è noto. E siccome l'abbiamo detto, no? Specie quando ragioniamo su grandi numeri statistici, perché non è che voglio dire che le persone sono tutte qualcosa di brutto e abbietto negativo. Io sono tremendamente innamorato dell'essere umano. Quello che però registro come persona che con la propria attività di editore studia le masse di esseri umani, è che nel momento in cui è in gruppo l'uomo, così come è capace a volte di realizzare delle cose tremendamente alte, la maggior parte delle volte però si lascia trascinare verso il basso. E quindi c'è questa tematica della pigrizia, potremmo chiamarla così, che comunque ci frega. E io sono tremendamente convinto che la nostra libertà passi anche dalla capacità di vincere questa pigrizia. Ed è un lavoro di autodisciplina. È un lavoro di costante allenamento di quel muscolo che si chiama forza di volontà, che se non lo alleniamo poi lo perdiamo e funziona esattamente come un muscolo. Più lo si allena, più lo si mantiene. Meno lo si allena, più lo si perde. E guarda, e chiudiamo con un'altra, questa è più una massima di saggezza che diciamo di esattamente di scienza politica, però ovviamente mi sembra molto efficace. È qualcosa di cui forse troppo spesso teniamo potuti a dimenticarci. La natura ha creato gli uomini in modo che possono desiderare ogni cosa e non possono conseguire ogni cosa. Tal che, essendo sempre maggiore il desiderio che la potenza dello acquistare, ne risulta la magra contentezza di quello che si possiede e la poca soddisfazione di esso. Tradotto, non siamo mai contenti di quello che abbiamo, perché desideriamo sempre molto di più di quello che è possibile ottenere. E poi tra l'altro questo fa pensare anche un po' al discorso brama di potere. Si possono fare tanti collegamenti, perché io per esempio ti offro anche quest'ultimo spunto di riflessione, una cosa che mi è capitato di domandarmi è, ci sono dei personaggi al mondo, un'esigua minoranza, ben inteso, che hanno tanto di quel denaro e di quelle ricchezze che forse non basterebbero mille vite per spenderle tutte e ne avanzerebbe pure. Eppure questa gente è sempre alla ricerca di, sinceramente non so neanche bene cosa, non sto dicendo che i soldi facciano la felicità, però, no, di tanto, Maria, anche... Diciamo che c'è la bramosia di, se non è di ricchezza, perché quella già c'erano, di potere, di... Poi vabbè ci sono anche vari, lo so, teorie tra virgolette complottiste sulle quali io si sente e non nutro un po' di dubbi da questo punto di vista. Però obiettivamente questi personaggi ci sono, ma c'è veramente, anche quando raggiungi certi livelli, non sei ugualmente contento di quello che hai realizzato, di quello che hai raggiunto, ma ricomposizioni importanti a livello politico, a livello economico, veramente l'eterna insoddisfazione. Ma è tutta la nostra testa e funzioniamo tutti nello stesso modo. Cioè, quello che ci opprime qua dentro, prima di tutto, e siamo... Lui, guarda che la frase che hai letto, io non me la ricordavo sinceramente, però effettivamente è una, probabilmente delle più potenti contenute nel libro, perché ti dice proprio questo, ti dice che a meno che tu non abbia la forza di volontà, l'autodisciplina e proprio l'energia necessaria per scagliarti contro questa cosa, sarai sempre schiavo di vedere l'erba del vicino sempre più verde e di non essere mai contento di quello che hai. Perché? Perché è la nostra natura. Perché siamo come quando siamo piccoli, no? Che se il giocattolo ce l'ha in mano qualcun altro, non ci interessa. Poi quando quel giocattolo ce l'abbiamo, perde completamente di interesse, istantaneamente quasi. Cioè, chi è genitore questa cosa la capirà, credo al volo, no? Anche chi è stato bambino, dai. Sì, esattamente. E da questo punto di vista, secondo me, coglie veramente un tratto incredibilmente distintivo dell'essere umano, che è solo nostro, perché se guardi gli altri animali questa cosa non ce l'hanno. Gli altri animali non soffriranno mai di depressione come ne soffre l'essere umano, di depressione del non ho quello che ha il mio vicino. Non è una cosa che... è una cosa nostra ed è una cosa con cui dobbiamo imparare a fare i conti, ma anche se siamo persone che non sono interessate a un certo tipo di... perché voglio dire, non è una cosa che si limita ai soldi o al potere, è una cosa che può andare in ogni aspetto della vita, no? Uno può essere uno sportivo e continuare a vedere i risultati che ottiene un altro sportivo e esserne invidioso. Uno può essere un artista e vedere i risultati che ottiene un altro artista e esserne invidioso. Quando la prima cosa che dovrebbero insegnarci a scuola è che l'unica competizione che conta è quella con i se stessi di ieri e ogni giorno dovremmo vincere quella gara con cui ci mettiamo in competizione con il nostro vecchio io e se lo facciamo... cioè provi a immaginare un'intera vita spesa a essere costantemente in competizione non tanto con qualcosa che qualcuno può o non può avere, ma con la tua versione migliore di te stesso che è quella di ieri, perché ogni giorno ti stai continuando a migliorare. Arrivi all'età della pensione che sei uno degli esseri umani migliori che hanno camminato su questa terra, se ci pensi. Se vivono intorno con questa attitudine... Sarebbe una gran bella cosa e purtroppo è difficile mettere in pratica. Ci vuoi dire in chiusura chi è Giovanni Bresci, questo autore del saggio introduttivo e anche delle spiegazioni dei singoli che accompagnano i singoli capitoli della vostra pubblicazione? Ma lo lascio scoprire ai lettori, così ti diamo un motivo per acquistare. Va bene, va benissimo. Allora io ricordo appunto il Principe di Machiavelli edito dalla Ibex edizione che quindi è disponibile in formato cartaceo, in formato audio libro, immagino che ci sarà anche nel formato, per chi lo volesse, elettronico, ebook, quindi lo potete acquistare sul sito della Ibex edizione. Vi ricordo naturalmente anche il canale YouTube dove io ho visto diverse interviste con tutta una serie di personaggi, devo dire, che meritano assolutamente. Avete già qualche, diciamo, pubblicazione in cottura? Sì, 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 assolutamente. Guarda, ti do anche uno scoop per quello che può essere scoop, nel senso che siamo ancora una casa editrice molto piccolina. Un momento, però piccoli passi, dai. Il primo, credo, tra settimana prossima e quella successiva, con un testo fondamentale scritto da uno storico italiano a inizio novecento, anni trenta, quindi nemmeno troppo così all'inizio, proprio sulle tematiche di potere. Ti ho già detto il titolo, ma non voglio dirlo in maniera esplicita, chi ha orecchie per intendere, intenda. Ci sarà la prefazione di un professore della LUIS di Roma che studia, insegna proprio la storia del pensiero politico. Ed è un testo, secondo me, fondamentale che ad oggi non è più reperibile sul mercato e che dà delle prospettive di interpretazione della realtà. Lui nello specifico fa un escursus dai primi, i momenti prima della rivoluzione francese fino all'avvento del fascismo, sostanzialmente. Ha un suo modo di vedere la realtà che non è il classico modo marxista del lavoro e capitale, ma propone una chiave di lettura molto interessante che non deve necessariamente sostituirsi a quella di Marx, ma che possiamo affiancare, perché la realtà è sempre fatta da più sfaccettature. Benissimo, quindi diciamo, sapete che a presto sarà disponibile anche questa nuova pubblicazione. Grazie Gio, ci vediamo e alla prossima notte poi ci sentiamo sicuramente. Grazie a tutti, grazie, buona serata e ricordatevi, come sempre, condividete questo video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, ciao, grazie, Gio ancora. Ciao.